e qui ci guarda la vostra ricorda segnata la vera e sia anche le vediamo avanti ricordi che l'altra volta eravamo appena usciti da questa stanza dove c'era un ragazzo abbastanza psicologicamente parlando un po matto siamo usciti a scappare in qualche modo siamo scappati non è entrato c'è ancora quello c'è ancora lì quello che deve essere l'amico di quello che aveva il rasgolino alla gola vi ricordate quello dell'altra volta ecco adesso noi andiamo a parlargli in maniera molto più molto pacifica sperando che magari non ci faccia niente neanche lui vediamo vediamo se se questo qua perché vedete hanno tutti quell'area un po un po instabile che non sanno bene neanche loro cosa vogliono è abbastanza provato e depresso e molto giù il ragazzo va bene ma sta lì lui vediamo se ci uccide è una vergogna scusa capo hai questo mi ha colpito da gli nas perla muoce muori non te li faccio male però vedi questo qui ci ha colpito ci segue questo a differenza di quello di prima in effetti ci insegue e ci picchia anche va bene e quindi non c'è dato da sapere finisce così bisogna stare attenti che questo maledetto questo signorino qua è molto più sveglio di quell'altro ok devo stare nascosto lui ci sente probabilmente solo con con la lingua o con il naso vedete che non ci vede vedi se resti nascosto si muove via 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 questo si muove maledetto lui ok abbiamo fregato siamo riusciti a fregarlo con l'altro aveva diciamo il rasgolino alla gola questo qui non è che ci ha il rasgolino alla gola questo qui è proprio incazzato nero ha detto ma ascolta non posso neanche farmi una dose da solo tranquillo che venite qua per i maroni e quindi ci ha seguito ci ha buttato per aria quindi questa è proprio arrabbiata è da stargli proprio lontano vedete adesso è ancora lì che dice ma non lo so io ma cosa ci ha visto non ci ha visto via corri 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 eh mi hai chiuso da cuore qui eh eh c'è poco da stare ci stava beccato quel lurido schifoso eh posizioni strane veloce ma cosa dove stiamo qua insomma oh signor via 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 ci fa male questo qui ci da una testata e ci apre la metà ci stai seguendo sono diventati degli schifosi psicosomatici questi dobbiamo stare attenti ok vi treasure f 마음ale ogni modo per non farci vedere guardalo la maledetto tu non ce la faremo mai ma ... ... ... forse non c'è questo ci vede via fuori come un treno via 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 che sbella che mi ha dato ti darei una testata via 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 che corso che abbiamo fatto ignorante come un imbecille ma guarda te mi fa cadere giù dall'impalcatura sto lurido cretino ti darei una sberla ok forse mi ha dato la seconda altra strada molto pertugio fai una botta qua spaccato distrugge apri sta po' pezzo di cacca gocciola e qua dobbiamo saltare ah no bisogna scivolare giù di qua ok ok forse c'è qualcosa forse forse è entrato l'appartamento l'appartamento di polizia ma saranno tutti morti vedrai c'è sto macello dappertutto che non si capisce bene che cazzo è ok andiamo dentro oh entriamo nel department of the of the policy meno meno male siamo entrati nel nel distretto di polizia va bene ok è giusto è giusto c'ha ragione l'unico lascia un marchio in tutto quello che fa e e oh io non sono speciale in questo caso io ho fatto un po' di cose ok ma alla fine cioè non ho mica mangiato un pecchinese io quello ha detto lui non è che non mi sento un personaggio così squalido da dover subire tutta questa roba qua anche i cappellini sono molto di moda i g ok va bene ragazzi siamo arrivati al distretto di polizia mi ha fatto questa nostra bella corsetta e questo è noi intanto ci fermiamo qui e ci sentiamo alla prossima bene per ora è tutto spolizionate mettete tantissimi like e ci sentiamo al prossimo va bene per il nostro video con la stessa domani si rampete ciao 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 ciao